E ciao a tutti ragazzi, sono un attimino tornato a casa e vi ringrazio per questo 2018 fantastico Grazie mille a tutti chi mi sostiene anche su Instagram, grazie mille a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri Grazie mille a tutti Questo 2019 secondo me sarà veramente un 2019 molto intenso ma bello Soprattutto per la mia community, anzi la nostra community Quindi spero che vi possiate essere divertiti oggi Oggi inteso ieri, il 31 e oggi che l'1 Quindi vi ringrazio veramente, oramai è mezz'ora dall'anno nuovo, quindi è mezzanotte e 30 E non so veramente cosa dirvi ragazzi, sono veramente molto felice perché mi avete portato tanta gioia e tanta felicità Soprattutto sul mio canale perché mi segue e perché mi sta continuando a sostenere In tutte le live, in tutti i video Dark, Andrea, Fede, Superboss, adesso mi sono veniti i primi nomi in mente Mirko, ragazzi veramente sono così emozionato che non mi ricordo neanche più tutti i nomi Mi dispiace ragazzi, mille iscritti, vi ringrazio veramente tanto Domani uscirà la prima parte di un rewind del 2018 dove porterò dei video di gennaio dell'anno scorso E febbraio, marzo, diciamo un video, un mini best moment di un video di ogni mese dell'anno passato Quindi veramente spero vi possa piacere, ci saranno magari 3 o 4 video su questo rewind Corti, video di 5-10 minuti Però mini video così Quindi raga, vi ringrazio, questo video non sarà neanche tagliato perché lo sto facendo direttamente dall'applicazione di Youtube Quindi un grazie mille ancora a tutti Vi auguro il meglio E veramente raga, ciao a tutti, grazie mille Un bacione ragazzi Saluto il mio team di Fortnite e tutte le persone che mi seguono su Instagram Anche lì ho fatto un ringraziamento speciale Ciao ragazzi, veramente, grazie mille